Benvenuti ai nostri ospiti, Francesco Duva, capogruppo a Montecitorio del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E allora a Trieste c'è Enzo Risso, il direttore di SVG, buongiorno. Buongiorno a voi. Siamo anche a sei mesi dalla nascita di questo governo, non è tempo di bilanci, ma è tempo di capire che direzione di marcia ha preso l'esecutivo. Ci arriviamo, intanto Duva mi dice che margini ci sono realistici per evitare una procedura di infrazione. Beh, evidentemente se il Ministro dell'Economia dice che ci sono i margini, credo che sia la voce più autorevole su questo tema. Noi come sapete vogliamo fare una manovra espansiva e su questo non ci piove. Vogliamo infatti cambiare questo trend che c'è stato finora, perché dopo la crisi, dopo la grime sangue di Monti e tutti gli altri governi, il debito pubblico è soltanto aumentato, l'economia reale non è migliorata, quindi l'unica cosa che c'è da fare è cambiare marcia. Noi vogliamo farlo con una manovra espansiva. Se ci sono dei correttivi da fare, li possiamo fare se servono per evitare l'infrazione, per tranquillizzare i mercati, lo possiamo fare, ma l'idea deve essere quella di una manovra espansiva che dia respiro agli investimenti e agli italiani. Allora andiamo a Milano da Marzio Quaglino per vedere l'apertura dei mercati finanziari, l'andamento dello spread e come è andata, Marzio, la settimana. Perché è una settimana segnata da una parola, trattativa o se volete dialogo, è la settimana del post-cena Juncker-Conte. Buongiorno. Buongiorno. Diciamo che per quello che riguarda la giornata odierna la si può definire con cautela. I mercati attendono di conoscere l'esito dell'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Il tema è quello ovviamente dei dazi, della guerra commerciale. I mercati sperano in una soluzione. Per quello che riguarda naturalmente a casa nostra i temi sono quelli della manovra. Ed è una settimana che ha visto effettivamente scendere lo spread, la tensione sui nostri titoli di Stato, proprio sulle aperture del Governo italiano a modifiche della manovra per andare incontro alle richieste della Commissione europea. Per quello che riguarda la giornata odierna partiamo proprio dallo spread che si mantiene sostanzialmente sui valori della chiusura di ieri, chiede 189 punti base, 3,21% il rendimento del BTP decennale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che gli investitori stanno dando un po' più di fiducia al Governo italiano, ma hanno ancora gli occhi puntati per vedere poi quali saranno gli effettivi cambiamenti. Per quello che riguarda le borse, andamento appunto incerto, partenza positiva per tutte le piazze azionari e poi una rapida inversione di tendenza. Come si può vedere Milano perde lo 0,33% ed è in linea con le altre principali borse europee. Grazie a Marzio Quaglino. Lunedì alla Camera in Aula arriva la manovra economica, già si parla di voto di fiducia su un maxi emendamento del Governo. Ci arriviamo tra un attimo. Direttore Risso, ma ci piace questa legge di bilancio per quello che stiamo conoscendo, per quello che si sta facendo e analizzando in Parlamento? Cioè piace agli italiani? Gli italiani vogliono una tregua. Vogliono una tregua dalle vecchie manovre solo lacrime e sangue e vogliono una tregua nella guerra con l'Europa. Quindi la maggioranza del Paese è favorevole alla mediazione. Il 69% degli italiani è favorevole al fatto di aprire un dialogo e di fare delle concessioni, concessioni ridotte, ma delle concessioni, quindi un cambio di tono. Allo stesso tempo questa manovra è più o meno apprezzata da 53-55% del Paese. Quindi il fatto che si cambi registro rispetto al passato, rispetto al fatto che si parlava solo di austerity, di lacrime e sangue, di tagli, eccetera, e che si parla invece di una manovra che vuole cambiare ritmo, che vuole cambiare marcia, questo piace al Paese. Poi quanto questo sia possibile è tutto da verificare, ovviamente. Ecco, quanto questo sia possibile, perché l'incontro e la possibilità di evitare la sanzione, onorevole Duva, c'è se qualcuno si sposta in direzione dell'altro, se entrambe le parti si vengono incontro, si è molto parlato dei numeri, dei numerini, ora poi ci impiccheremo agli zero virgola tra un attimo, ovviamente. Mi dice cosa non si può rinunciare? Non si può rinunciare a un reddito di cittadinanza che parte quando e con quanti soldi? Allora, dunque, deve partire insieme ai centri per l'impiego. Quindi abbiamo promesso il primo aprile, quindi ci impegneremo per mantenere la promessa, come abbiamo sempre fatto da quando esistiamo come Movimento 5 Stelle e in generale quindi come Governo Conte. Questa sarà una misura che bisogna assolutamente portare avanti. Un'altra è quota 100, che è il superamento della legge Fornero, questo che era un altro di quei punti che come Movimento 5 Stelle avevamo nel programma elettorale. Ce l'aveva anche la Lega con abolizione legge Fornero, abbiamo trovato questa sintesi di quota 100 che prevede appunto che le persone potranno andare in pensione e quindi lasciare dei posti di lavoro a chi in questo momento è inoccupato. Perché parliamo di persone della mia età o più giovani che non hanno mai potuto lavorare perché non ci sono proprio posti di lavoro disponibili che sono occupati da persone che stanno lì o sono costrette a lavorare e vorrebbero andarsi in pensione. Questo è sicuramente irrinunciabile, su questo non ci piove. E un'altra cosa irrinunciabile ovviamente è il blocco dell'aumento dell'IVA. Come sapete l'ultima legge di bilancio era previsto che per quest'anno ci desse un aumento dell'IVA. Noi abbiamo messo 12,4 miliardi proprio per impedirlo perché in questo momento a livello globale c'è una stasi, non c'è crescita. Se noi togliamo anche la crescita interna, la domanda interna e allora questa crescita non arriva da nessuna parte. Quindi buono il blocco dell'IVA. Ha fatto bene a ricordare che si partiva da meno 12,4 miliardi le clausole di salvaguardia su una legge che ne vale più o meno 36, quello è un pacchetto assolutamente consistente. Ma senta, in tutta onestà, so che mi dirà valutiamo, discuteremo, eccetera, ma l'ipotesi che quota 100 possa valere solo per il 2019 o solo per tre anni è praticabile? Perché tra le misure è quella sulle pensioni che convince meno all'Europa perché sul lungo periodo rischia di non essere sostenibile. Guardi, si deve vedere. Poi è ovvio che noi vorremmo delle misure sostenibili, misure comunque siano standard e che quindi ci siano per sempre. Non ci piacciono le manovre spot. Poi è chiaro che se dobbiamo venirci in conto all'Europa dovremmo vedere. Onestamente non le so dire in questo momento perché ci sono delle trattative in corso tra il ministro Tria, tra il premier Conte e l'Europa ed è giusto vedere dove si riesce ad arrivare. È chiaro che noi spingeremo per fare in modo che tutto ciò sia strutturale. Poi torniamo sui punti cardini della manovra. Però Sadduval, buongiorno, ce l'avete dato come blog delle stelle, le faccio leggere quello che è appena uscito, lanciando un hashtag che è Io non ci casco. Il quarto potere vuole delegittimare il Movimento 5 Stelle. Ecco appunto questo hashtag. Io immagino, ho letto alcuni passaggi, non tutto il post, che si parli anche della vicenda di Maio, non soltanto di quella. Però vedete la parte centrale è la delegittimazione che voi dite viene fatta dalla stampa. È il metodo utilizzato dai poteri autoritari per far fuori i loro avversari. Ma onestamente questo è un paese con un regime autoritario. E soprattutto come si fa a dirlo quando lo si governa? Dunque, noi non crediamo, in questo momento non crediamo che la stampa ci sia molto vicina. In generale, ma non c'è mai stata né noi lo siamo mai stati con loro. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle nasce dagli amici di Beppe Grillo. Nel 2008 abbiamo fatto il V2 Day, quindi una raccolta firme per abolire l'ordine dei giornalisti, per fare determinate cose che poi abbiamo cambiato ovviamente. Soprattutto per togliere i finanziamenti pubblici all'editoria. Quindi è chiaro che noi proprio nasciamo... Poi l'ha tolti Monti nel frattempo, lo ricordo, che i finanziamenti pubblici l'ha tolti in gran parte Monti sono rimasti per le cooperative dei quotidiani. Sì, alcuni ancora ce l'hanno, sì. Però diciamo che in generale non c'è mai stato questo grande rapporto d'amore con la stampa. Vediamo su alcuni giornali, alcuni giornali ci sono dei titoli abbastanza faziosi. Molto spesso sono i titoli, quindi più che i giornalisti sono i veri e propri, perché gli articoli ancora ancora vanno bene, sono le linee editoriali che vanno proprio in direzione da una parte o dall'altra. Questa è libertà di stampa ed è giusto ci sia, però alle volte si va a colpire in maniera eccessiva qualcuno piuttosto che un altro. Questa cosa a noi non è mai piaciuta, la soffriamo obiettivamente e grazie al cielo c'è la rete che permette a tutti di dire la propria. Anche se a volte si va in derive che non vanno bene, molto spesso su Facebook capita, però i blog di Grillo, come ce ne sono tanti altri, permettono anche un'informazione diversa che a noi ovviamente piace. Allora, ricordo che è il blog delle stelle, noi l'abbiamo preso non dal blog di Beppe Grillo, perché ci sono due mondi che si sono separati, giustamente. Sono un po' vintage, perché prima c'era il blog di Grillo, adesso c'è il blog di Grillo che è una cosa, il blog delle stelle, perché come si sa ormai Grillo ha fatto un passo di lato, quindi siamo come Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio che è il nostro capo politico e andiamo avanti a fare qualcosa di molto diverso, ormai si parla di Movimento 5 Stelle in larga misura, staccandolo anche dalla figura di Grillo. Lei ci ha riportato al 2008, alla nascita del Movimento Risso, che è rimasto nell'azione del governo, del primo governo 5 Stelle del Movimento delle Origini? Diciamo che in questi mesi sono cambiate diverse cose, nel rapporto tra l'opinione pubblica e i 5 Stelle. Nel senso che non è solo il dato nazionale che ha visto i 5 Stelle passare dal 32 a più o meno al 26-27% dei voti, ma è cambiata un po' di geografia dei 5 Stelle. Nel senso che, per farvi solo tre esempi, il 4 marzo il 27% degli italiani del nord aveva votato per i 5 Stelle e un altro 27% aveva votato per la Lega. Oggi la Lega è al 40% al nord e mentre il 5 Stelle è sceso al 19%. Una stessa dinamica di inversione di tendenza è avvenuta nel centro Italia, dove prima i 5 Stelle erano avanti alla Lega e oggi si è avuto un processo inverso. Ma la cosa più significativa è il cambiamento che è avvenuto tra i CETI bassi. Nel senso che i 5 Stelle rappresentavano il 40% dei CETI medio-bassi il 4 di marzo, oggi sono scesi a sotto il 30% mentre la Lega è salita al 40% dei CETI medio-bassi. Quindi c'è stato anche un cambio di legame con la società. Il dato di fondo è che, a parte tutta la discussione sulla manovra, l'opinione pubblica e gli italiani vorrebbero 3 o 4 cose importanti, che sono rimettere in moto l'ascensore sociale, ridurre il precariato e tagliare tutti quelli che sono i privilegi. Queste sono le tre grandi battaglie che si aspettano da questo governo. Direttore Duva ride perché ora mi dice che abbiamo fatto il reddito di cittadinanza, abbiamo fatto il decreto dignità e abbiamo tagliato i vitalizi. Giusto Duva? Sì, obiettivamente intendo dire che Luigi Di Maio si è preso, quando c'è stata la formazione del governo, ci teneva che ci fossero questi due ministeri che potesse gestire lui, che sono il ministro sviluppo economico e il ministro del lavoro. Perché? Proprio perché noi sappiamo che queste sono le cose principali che servono alla nostra cittadinanza. Quindi abbiamo fatto subito il dignità, come ha giustamente ricordato lei, per l'abolizione del precariato, per la riduzione notevole. Tagli e privilegi abbiamo tagliato i vitalizi qua, vogliamo fare altro, vogliamo andare oltre e lo stiamo facendo. Quindi chiaramente noi andiamo avanti. Poi è evidente che Salvini ha una potenza mediatica molto forte, quindi probabilmente riesce anche ad arrivare molto bene ai cittadini. Ma io non credo di poter rimproverare nulla né ai nostri ministri, ne devo dire al gruppo parlamentare, perché finora abbiamo portato avanti tutte le politiche per cui siamo stati eletti il 4 marzo. E considerate che in questi sei mesi che si fa il bilancio dei sei mesi, io voglio ricordare che ancora deve arrivare la manovra, perché è lì che cambia veramente tutto. E con la manovra è perché noi oggi ci troviamo sotto la manovra Gentiloni, quella dell'anno scorso. Sì, ma questo è chiaro perché questa sarà la prima misura, le prime misure economiche, la prima legge di bilancio della maggioranza. Ma basta dire che sfonda più dal punto di vista comunicativo Matteo Salvini per segnare un'inversione di tendenza, che è quella che fotografa Varisso, che mi scuserà, i sondaggi valgono per quello che valgono, eccetera, eccetera, ce lo diciamo sempre, ma segnano comunque una tendenza. Perché se fosse solo comunicazione, come dire, si può trovare una strada alternativa ad Uva, ma forse c'è anche il fatto che ha dato la sua impronta politica Salvini. Chiusura dei porti, decreto sicurezza, discussione sulla legittima difesa, il blocco dell'Italia al Global Compact, cioè è tanta roba che porta a casa in sei mesi Salvini. Beh, sì, senza dubbio. Però appunto quello che ha detto già il dottore, insomma, è che le cose che vogliono gli italiani, oltre queste, sono altre, sono stop la precarizzazione, insomma, taglio i privilegi, quindi sono proprio le classiche cose che hanno portato il Movimento 5 Stelle, persone come me, laureate in chimica, che dovevano stare in un laboratorio, si sono ritrovate a fare i parlamentari, perché il cittadino si è fatto stato per portare avanti quelle istanze che non portava avanti nessuno. E noi su questo solco continuiamo ad andare avanti. Poi è chiaro che ognuno porta avanti le sue battaglie, noi crediamo che queste siano sacrosante, e stiamo andando avanti su questo. Ci tengo molto a sottolinearlo, ecco. Ma io non ho capito una cosa, perché ieri più o meno a quest'ora abbiamo sentito, Matteo Salvini dice, no, no, noi a Marrakesh non ci andiamo, e il Parlamento dovrà discutere, è il capogruppo a Montecitorio, parliamo del Global Compact, cioè questo negoziato a livello internazionale, voluto da ONU per una gestione delle politiche dell'accoglienza e delle migrazioni. Ha detto, ne deve discutere il Parlamento, certo, c'ha tanto da fare il Parlamento in questo periodo, è impensabile una discussione parlamentare sul Global Compact da qui al 10 di dicembre, cioè quando c'è la conferenza di Marrakesh, o voi proverete a farla? E soprattutto voi siete... No, chiudo la domanda con questo ultimo passaggio. Siete a favore del Global Compact come Movimento 5 Stelle? Allora, la situazione è questa. Noi ieri abbiamo fatto una conferenza di capigruppo in cui abbiamo calendarizzato, in quota opposizione alla Fratelli d'Italia, c'è una mozione su questo tema che verrà discussa entro dicembre, a meno che appunto non ci sia anche la disponibilità, poi vedremo di affrontarlo sempre in un altro modo, sempre in Parlamento, ma in generale si vuole parlamentarizzare, l'abbiamo detto, ovviamente dovrà essere fatto. Poi va detto che il Global Compact è un accordo globale sulla migrazione di fatto, che va bene se uno ci pensa, però ci sono alcuni passaggi un po' particolari, ce n'è uno in particolare che mi colpisce, perché si considera la migrazione come un valore aggiunto e non come un problema, c'è un valore aggiunto per riuscire a ottenere quei 17 obiettivi della sostenibilità che sono stati firmati il 25 settembre del 2015. Se facciamo un passo indietro, quello per me meritava di avere molta più eco-mediatica di quello che ha avuto, perché l'ONU ha deciso di puntare su 17 obiettivi per rendere il futuro sostenibile. Ora, si sta dicendo in questo Global Compact di adesso che la migrazione aiuterebbe quei 17 obiettivi sostenibili. Beh, personalmente mi lasci dire che per noi la migrazione non è una soluzione, un mezzo per ottenere qualcosa, ma per quanto ci riguarda la migrazione è un problema, nel senso che una persona che si sposta da casa propria, che lascia i propri cari, la propria casa, per poter sopravvivere, per noi non è un valore aggiunto, ma per noi è una cosa negativa. Quindi tutto sta lì obiettivamente. Quindi su questo si deve discutere, dobbiamo capire perché l'accordo qui si tratta di firmarlo o non firmarlo. Ma si può anche firmare, in effetti, io l'ho chiesto se ce la facciamo come Parlamento a discutere entro il 10, ma ovviamente l'accordo si può firmare anche dal mese. No, si può firmare entro marzo, quindi entro il 10 no, non è possibile, ma non è un problema perché al di là di andare a Marrakesha a firmare, in realtà il trattato si può firmare eventualmente fino a marzo, quindi non è quello un problema. A Marrakesha è chiaro che noi non andremo, già l'ha detto Conte, quindi su questo è inutile pure tornare. Su questo due cose, poi vi facciamo sentire anche un passaggio della conferenza stampa di Caffiero De Rao, c'è stata una vasta operazione a Foggia, ci arriviamo tra un attimo antimafia e ovviamente ve ne daremo conto e sta già parlando Caffiero De Rao e tra un attimo ci andiamo. Le volevo chiedere, secondo lei, se io la stessa domanda l'avessi posta a Roberto Fico, mi avrebbe risposto come lei, cioè che l'immigrazione non è un tema per uno sviluppo sostenibile, io onestamente penso di no. Ma guardi, non le so dire, chiaramente il Presidente della Camera, parliamo di un'altra figura istituzionale, quindi non le saprei dire obiettivamente e non posso interpretare io il pensiero di una figura così alta e così istituzionale come lo è il Presidente della Camera. L'altra cosa, ma è tutto normale che sia Salvini a dare la linea prima di Conte? Sul Global Compart, ha parlato prima lui, non fa nel Ministro degli Esteri e nel Presidente del Consiglio. Ma in realtà, se si ricorda, è successo durante la discussione in aula del Decreto Sicurezza, c'era un ordine del giorno che parlava di questo, quindi era un Decreto Sicurezza, il Ministero dell'Interno, c'era un ordine del giorno presentato da un'opposizione che chiedeva proprio sul Global Compart, piuttosto che parlare Molteni, che è il sottosegretario che stava esponendo e stava rispondendo a tutti gli ordini del giorno, è stato Salvini, quindi da questo punto di vista è stato anche corretto, istituzionale, che fosse il Ministro dell'Interno e non il sottosegretario in quel momento a parlare. Anche se Conte due mesi prima aveva detto che andava bene il Global Compact. Beh sì, lui Conte l'aveva detto, l'aveva detto in generale sì, però una discussione si può sempre fare, si deve fare, alcuni passaggi appunto vanno rivisti, quindi ben venga a parlamentarizzare perché è anche corretto così, lo sta facendo già la Svizzera, non succede niente se lo facciamo anche noi. Allora, direttore, arrivo da letto un secondo, dicevo, Caffiero De Rao che sta parlando in conferenza stampa, la notizia è questa che vedete dal nostro sito, Foggia, vasta operazione antimafia, 30 arresti, sono tutti i presunti componenti del clan Moretti, Pellegrino, Lanza e Sinesi Francavilla, una decina di pregiudicati che già si trovano in carcere. Sentiamolo. ...so soggetti che però hanno reagito, nel senso che poi hanno anche denunciato e questi sono aspetti di grande importanza nel territorio. La società foggiana, parliamo della organizzazione mafiosa, utilizza metodi violenti, con armi, è questo lo strumento di persuasione che ancora utilizza e guardate come si distingue rispetto alle altre mafie, Cosa Nostra, Drangheta, anche la Camorra ha fatto salvo quei quartieri pochissimi nei quali ancora ci sono stese, hanno tutti abbracciato la strategia della sommersione, qui a Foggia invece, così come a Bari, si è ripreso a sparare e è questo l'altro motivo per cui sono venuto e ritengo che questa operazione sia di enorme importanza. Un'attività quindi di indagine che in modo veramente di altissima professionalità hanno evidenziato le polizie giudiziarie e le procure della Repubblica, quella di Bari in particolare, la direzione del settore antimafio, con il sostegno di quella di Foggia, hanno evidenziato come quella guerra che esiste all'interno della stessa società foggiana sia finalizzata soprattutto ad individuare una sorta di regola per quanto riguarda la divisione dei profitti e per quanto riguarda l'infiltrazione dell'economia e quindi gli affari di cui pure già vi ha parlato il procuratore distrittuale. Allora, così Caffiero De Rau, torniamo in studio una operazione importante che vi raccontiamo dalle prime ore di questa mattina, avevamo già sentito alla News 24 proprio Caffiero De Rau, questa è la conferenza stampa, ovviamente continueremo a raccontarvela con tutti i dettagli. Risso, io le faccio questa domanda che non piacerà a Duva, la metto così, poi dopo lo chiedo anche a lei onorevole, ma nella percezione dei cittadini e sappiamo quanto la percezione influisca più della realtà tante volte, chi è il capo politico di questo governo? Il ministro che è più apprezzato è sicuramente Matteo Salvini, il voto che gli viene dato è un voto che è quasi vicino al 7 ed è il soggetto politico in cui ha fiducia più della metà del paese in questo momento. Per quanto riguarda invece Luigi Di Maio in questi ultimi due mesi fino a diciamo all'inizio di ottobre anche ancora metà ottobre Di Maio tallonava con 5-6 punti di stacco Salvini in questi ultimi periodi Di Maio ha perso un po' di appeal e quindi è un po' più basso il voto medio è intorno al 5-5 ed è il ministro che comunque sta facendo il suo lavoro però viene apprezzato meno di rispetto a Salvini Per quanto riguarda il presidente del consiglio è una figura di intermediazione come le figure di intermediazione riesce a stare intorno a 6 E' come i caschi blu quelli dell'ONU nelle zone di conflitto ma senta Duva poi vediamo e vedremo in prospettiva quanto inciderà questa vicenda ma come state vivendo la storia del padre di Luigi Di Maio i terreni l'azienda come la sta vivendo la pancia del movimento il gruppo parlamentare Guardi glielo dico subito prima se mi permetto voglio fare un passaggio su Foggia ci tengo perché ci abbiamo lavorato nella scorsa legislatura in commissione antimafia dire che a Foggia si è ricominciato a sparare per certi versi è quasi sbagliato nel senso che a Foggia si è sempre sparato purtroppo e c'è sempre stato un cono d'ombra e non se ne è mai accorto nessuno abbiamo cercato anche nella scorsa legislatura di farlo presente siamo felici che finalmente ci sono le risposte da parte dello Stato questo me lo faccio dire perché ci abbiamo lavorato per quanto riguarda la sua domanda che non voglio eludere noi la viviamo male nel senso ci sembra un accanimento quello lì per quanto riguarda Luigi Di Maio perché in questo momento stiamo parlando di un ministro che sta facendo il suo lavoro di ministro una persona che come me come tutti i portavoce del Movimento 5 Stelle sta rinunciando a una parte del proprio stipendio che abbiamo dato 2 milioni di euro per gli alluvionati per la protezione civile quindi onestamente una persona che lavora dalla mattina alla sera con due ministeri mi dispiace che poi debba essere messa alla berlina perché il padre che si è scusato ha fatto degli errori in passato quando Luigi Di Maio non era ancora ministro cioè mi dà pure fastidio quando si parla di un certo parallelismo tra il padre della Bosch lì non c'entra nulla perché lì eventualmente c'erano degli eventuali collegamenti con l'attività ministeriale in questo caso non c'è nessun tipo di collegamento non è che parliamo di un Di Maio che è andato all'ispettorato del lavoro a dire fate questo secondo lei visto che ora invece è in un ministero ora è in un ministero è in quel ministero quello del lavoro oltre che dello sviluppo economico sarebbe opportuno ieri alcuni suggerivano questo percorso al ministro Di Maio inviare degli ispettori per verificare quanto hanno raccontato alcuni organi ha raccontato la trasmissione delle Iene ma francamente devono fare credo che qui lo Stato già ci sono c'è l'ispettorato del lavoro c'è tutto non credo che debba partire un ordine al ministero del lavoro mi sembra francamente che stiamo esagerando perdonatemi tutto quello che deve essere fatto viene fatto quindi non ci deve essere nessun tipo di interferenza da parte ovviamente ci mancava e non ci sarà perché noi siamo il Movimento 5 Stelle sull'attività che lo Stato deve portare avanti e la porta avanti ma parliamo sempre di qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'attività politica di Luigi Di Maio Le chiedo un'ultima cosa su questo capitolo ma nel curri io so che voi avete curato molto l'aspetto curriculare di tutti i candidati e di tutti voi lei è stato chiamato a scriverlo a dire ho fatto questo sono questo questi studi queste esperienze c'era scritto che aveva il 50% di quella società? mi sembra che dal 2014 che è noto perché comunque dovrebbe essere che c'è la dichiarazione dei redditi probabilmente quindi non credo se non c'è la dichiarazione dei redditi comunque dal 2014 che è nota questa cosa direttore Risso in questo confronto che ha accompagnato questi sei mesi Di Maio Salvini con quella operazione di intermediazione di Conte io lo vedo quanto mai tranquillo il leader della Lega perché anche nella vicenda della discussione della legge di bilancio comunque lui è molto sereno oddio sereno no termine sbagliatissimo visto quello che è successo scorsa legislatura è tranquillo perché quota 100 comunque è manovrabile molto più del reddito di cittadinanza io credo che lui si faccia forza di tre cose intanto che nell'opinione pubblica ha più successo il tema di quota 100 che il reddito di cittadinanza perché se si chiede quali sono i provvedimenti a cui si può rinunciare diciamo è più facile trovare persone che sono favorevoli a ridurre l'impegno sul reddito di cittadinanza rispetto al tema di quota 100 la seconda cosa è che sicuramente il ministro Salvini sta attento a non occuparsi solo degli immigrati lo avete visto sulla ruspa a demolire una casa abusiva l'avete visto telefonare al al gommista che ha sparato ad Arezzo lo avete visto stare molto su tutto il terreno che è la complessità del tema della sicurezza lo avete visto impegnarsi a investire sugli interventi di polizia davanti alle scuole contro la droga e quindi lui ha una mission molto chiara cioè che è quello di cambiare invertire la rotta sul tema sul tema immigrati ma anche sul tema sicurezza e c'è da dire che alcune cose le sta ottenendo perché la curva della percezione di insicurezza da quando lui è ministro degli interni è scesa nell'opinione pubblica la terza cosa si la terza cosa direttore in un flash la terza cosa è il fatto che lui si fa forte di una di una sua ideologia che è quella di dire prima gli italiani che sa che questo è un grande driver che sta comunque entrando nell'opinione pubblica e sta diciamo non dico convincendo ma comunque riesce a dialogare con vasti settori dell'opinione pubblica allora Duva due cose poi la lasciamo andare ai lavori d'aula lavori parlamentari la prima è quel gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle che non ha votato il provvedimento finale di L Sicurezza la sua conversione in legge rischia qualche sanzione? ma essenzialmente qui dobbiamo ricordare che noi siamo stati molto presenti in aula quel giorno questo va detto perché detta così sembra che c'erano chissà quanti assenti in realtà sono dati alla mano eravamo più presenti noi al sicurezza che eventualmente la lega all'anticorruzione questo è uno di quei motivi per cui tanto per essere chiari di quanto si fida della lega ecco no no più che altro per far presente appunto come quei rapporti con la stampa magari si sta parlando molto di questo dato quando noi eravamo l'83,6% magari va a finire che la lega che era al 78% non è stato fatto lo stesso trattamento quindi da un certo punto di vista mi sembra che la stampa ci colpisca molto a noi 5 Stelle sono contento che non colpisca la lega perché il nostro contrenente di governo e quindi in generale siamo felici che un'altra parte del governo si è trattata meglio però ci dispiace che poi c'è sempre questa piccola parte come se il Movimento 5 Stelle fosse sempre quello spaccato quando poi in realtà i numeri d'aula dicono qualcosa di diverso in generale per quanto riguarda le sanzioni noi parleremo con queste persone e faremo presente che non è tollerabile un atteggiamento di questo tipo perché chiaramente il gruppo parlamentare ha anche delle c'è una certa ci sono delle regole del gruppo parlamentare che vanno rispettate quindi questo sicuramente verrà sottolineato a loro e agli altri allora siamo partiti dalla legge di bilancio l'ultima domanda gliela faccio proprio su questa poi la lascio andare perché nella manovra 2019 viene creato un fondo 3 anni 45 milioni tecnologia blockchain internet delle cose è un capitolo di lavoro di impresa che riguarda la casaleggio è conflitto di interessi? ma che significa scusate la casaleggio si occupa di tante cose ma anche di questo se il mondo va in questa direzione il mondo sta parlando di blockchain quando si è parlato di bitcoin tutte quelle cose lì c'entra il blockchain cioè il bitcoin è una questione nazionale internazionale come quello che sfrutta questa tecnologia blockchain sarebbe folle non investire su qualcosa di questo tipo perché ci devono essere delle malelingue che dicono cose di questo tipo semmai casaleggio è esperto di questo settore ma non è che si sta facendo una legge un qualcosa per dire tu puoi partecipare e tu non puoi partecipare tu che hai che ti chiami casaleggio associati puoi accedere a questo fondo e tu non puoi partecipare cioè qui si sta facendo qualcosa di utile per tutto il paese speriamo ci sono tante persone che vorranno investire su un settore che sembra essere il futuro questa è la cosa più importante semmai puntare all'innovazione e non ancorarsi al passato allora io la saluto però le faccio sentire vorrei che sentisse la risposta di Risso a questa domanda Risso in un'altra epoca l'avesse fatto Berlusconi quante piazze avremmo visto? eh abbastanza piene direi grazie Francesco Duva per essere stato con noi in studio ma ha aggiunto il professor Gustavo Piga buongiorno professore ben trovato grazie a tutti